Hello guys, citato per non so quante volte rimandato Causa Imprevisti, finalmente posso ufficializzare il secondo torneo formato edison del canale, quindi, qualora tu fossi interessato a partecipare, guarda il video per capire come iscriverti. Di seguito vi riporterò le informazioni e le regole di questo torneo, ma prima di continuare ci tenevo a ringraziarvi in questo video per il traguardo dei 3000 iscritti che abbiamo raggiunto qui su YouTube. Per me significa tanto e realizzerò uno speciale dedicato a questo evento non appena sarò di ritorno, quindi se sei nuovo del canale e vuoi unirti alla mia crew e ti interessano contenuti retroformat come edison, tenkuplant e hat o unboxing dei prodotti vintage del gioco iscriviti al canale, costa pochissimo del tuo tempo ma contribuirà sostanzialmente al mio lavoro. Tornando al torneo questo si svolgerà su dwelling book il 9 settembre 2023 dalle ore 15 così da poter pranzare con calma. La scelta della piattaforma oltre che essere stata messa ai voti penso sia la scelta migliore visto che le piattaforme automatizzate definiamole così come DoPro, Yu-Gi-Oh! Omega o Dueling Nexus presentano ancora qualche bug in merito a ruling ed errate o addirittura uno di questi non ha nemmeno la possibilità di utilizzare la master rule che contraddistingue il formato quindi che c***o. Ovviamente in futuro quando verranno migliorate le cose o se master duel io ci spero un sacco introdurrà il retroformat e le master rule ovviamente vedremo se cambiare ma al momento rimaniamo su dwelling book. Il torneo avrà i famosi Swiss turn quindi i turni svizzera il cui numero di turni varierà ovviamente in base al numero di partecipanti ma sono previsti circa di base 3-4 turni la cui durata è di massimo 45 minuti. I match saranno al meglio delle tre quindi dovrete ottenere almeno due vittorie per vincere il turno. Alla fine dei turni in caso di pareggio per il podio svolgeremo una piccola finale o top in base al numero di partecipanti che se sarà abbastanza alto metterò in palio un piccolo premio come ringraziamento di partecipazione all'evento come un buono o una carta speciale. Tutto molto bello. Molto bello. Ma ora vi chiederete come ci si scrive? È molto facile. Per iscriversi e partecipare ho realizzato un piccolo modulo di google da compilare che ruba letteralmente un minuto del vostro tempo. È molto semplice e intuitivo. Basterà infatti inserire il vostro nome, il vostro nickname di Dwellingbook, unirvi al mio server discord dato che lì metterò i vari turni ed infine cosa probabilmente quasi più importante mandarmi la lista tramite il link di Dwellingbook. Come si fa? Ora ve lo spiego. Basterà andare su Dwellingbook, Deconstructor, cercare o insomma creare il mazzo che volete utilizzare al torneo e cliccare qui su Export Deck. Vi si aprirà una piccola finestra all'interno del sito dopodiché fate download link quindi lasciate così com'è, fate ok e avete la vostra lista. Quello che dovete fare è copiare il link qui sopra e incollarlo all'interno del modulo. Semplice no? Cosa importante l'iscrizione dovrà essere effettuata entro le ore 13 del giorno del torneo quindi due ore prima che questo inizi. Una volta fatto iscriviti al canale youtube qualora non fossi iscritto e soprattutto lascia un commento qui sotto. Infine come la chiamerei una nota dolente ma purtroppo devo farla e come lo scorso video vi accenno ad alcune problematiche che potrebbero sorgere durante il torneo. Essendo un evento online devo essere purtroppo un minimo rigido sulle tempistiche quindi se l'avversario non si presenta ma soprattutto non vi comunica in alcuna maniera la sua presenza entro 15 minuti dall'inizio di ogni turno calcolerò la cosa come sconfitta per l'assente. Ovviamente se doveste avere problemi in merito agli orari potete tranquillamente concordarvi con il vostro avversario per giocare però entro i primi 30 minuti dei 45 minuti del turno quindi anche se in ritardo un minimo di flessibilità e fiducia soprattutto vorrei darvela. Ovviamente comunicate la cosa a me o anche ad un moderatore su Discord o su uno dei miei social che trovate qui sotto in descrizione. Per quanto scontato tendo a dirlo per sicurezza non potrete cambiare mazzo alle carte al suo interno durante lo svolgimento del torneo. Inoltre in caso di problemi di tossicità mi raccomando segnalate la cosa senza problemi direttamente a me e ovviamente ai moderatori del server che provvederanno ad informarmi. In base all'accaduto provvederò personalmente ad intervenire nella maniera che ripeterò più opportuno. Io vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto, grazie nuovamente per il traguardo che abbiamo raggiunto, spero di ottenere altri risultati con questo canale per la fine dell'anno visto che appunto il traguardo era quello dei 3.000 iscritti per la fine dell'anno ma ci siamo arrivati prima fortunatamente. Soprattutto se vuoi partecipare al torneo ma non conosci bene il formato Edison ho realizzato una piccola guida introduttiva al formato in cui vado a spiegare cosa è il formato, quali sono i mazzi più giocati, le carte più giocate. Quindi se hai anche il tuo primo approccio con Edison ti consiglio di partecipare così da poter imparare direttamente sul campo con persone che fanno parte della mia community che non sono tossiche o qualora dovessero esserlo ripeto segnalatemi la cosa perché il mio obiettivo è creare una community super tranquilla volta eliminare qualsiasi tipo di tossicità e comportamenti scorretti. Quindi grazie ancora e ci vediamo al torneo.